Un all-star cast in una serie, diciamo, pensata per un pubblico di gente molto colta a Tardanotte. Come è stata la risposta di Israele a questo progetto, a quella risposta immediata? La risposta è stata un fenomeno in Israele, che tutti parlavano, ma più persone parlavano di più 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 di questo progetto. Per prima, la qualità della scrittura, non solo la qualità, ma anche la qualità del dialogo. E poi, lo che ha fatto anche, è che ha un grande effetto di psicoterapia in Israele. A molti persone fanno per la terapia, a molti persone fanno per la terapia. La terapia in Israele era entusiastico. La prima settimana, ci sono state delle ottime recensioni sui giornali, quindi è andata bene, però è stata soltanto alla seconda e alla terza settimana che praticamente la serie è diventata un fenomeno in Israele e tutti quanti ne parlavano. Erano molti più quelli che ne parlavano di quanti non lo guardassero, però comunque ne parlavano. E è diventato, nel giro di due o tre settimane, un fenomeno per una serie di ragioni. Innanzitutto, la qualità della scrittura. E intendo dire non solo la qualità, intendo dire anche proprio la levatura, l'alto livello di scrittura. E in secondo luogo, anche quello che è successo è che questa cosa ha avuto un forte effetto, un profondo effetto anche sulla psicoterapia in generale. Moltissime persone, dopo aver guardato la serie, sono andate in terapia o sono tornate in terapia. Questo ovviamente ha reso entusiasti i terapeuti di tutto il paese, ma perché in realtà? Perché loro avvertivano, sentivano che era la prima volta che il loro lavoro veniva presentato sotto la giusta luce, nella giusta maniera, e non parodiato, come può succedere magari nei film di Woody Allen. Che veramente veniva mostrato in questa serie quello che loro facevano e quello che dovevano affrontare.